Chiedono al Governo regionale lo sblocco dei pagamenti a GEA, fermi dal 2015, e misure di sostegno a causa dei danni provocati dalla siccità che ha messo in ginocchio aziende zootecniche, biologiche e montane. Sono gli allevatori uniti della Sicilia che a Palermo hanno sfilato in un corteo di protesta sino alla sede della Prefettura. La spesa sul settore dell'allevamento in Sicilia è al palo e gli allevatori sono messi in grave crisi dall'emergenza idrica che potrebbe assumere entità maggiore con l'inizio della stagione estiva. Sono 2 miliardi e 200 milioni di euro che sono arrivati alla Sicilia e che a causa di una cattiva gestione di questi fondi ancora non sono stati elargiti. Questo è un problema gravissimo che poi si riparcuote su tutta la collettività, non solo sul mondo agricolo. Ci sentiamo un po' traditi da tutto il sistema burocratico che attraverso le sue lungaggini ha ritardato pagamenti importantissimi e vitali per l'agricoltura già da più di tre anni. E parliamo di pagamenti che a quanto dice un chiaro regolamento della comunità europea del 1325 e del 2013 si dovevano fare entro l'anno dalla presentazione della domanda.